Ben trovati i video elettori del Capoloro a questo nuovo appuntamento con Grandangolo, la rubrica con la presunzione di parlare di politica ma non solo e questa sera parleremo di tutti e due in questa rapidissima chiacchierata che durerà i classici 30 minuti e lo faremo insieme, è inutile che lo presenti, ragazzi inquadriamolo subito con il Sindaco Biondi, grazie Sindaco. Buonasera Davide, buonasera a tutti i video lettori del Capoluogo, ti rinnovo ringraziamenti perché mi rendo conto che vieni fuori da un periodo un po' massacrante e quindi aver avuto la disponibilità di dedicarsi questi pochi minuti è comunque apprezzabile. Dicevamo, parleremo di politica ma non solo cominciando con il non solo e Sindaco veniamo da ieri, veniamo da una giornata straordinaria e io partirei un attimo con un contributo video dalla regia. Il capoluogo via a luna di unità raccomanda con i capitali da Natura del 2026 la città dell'Auto. Siamo rientrati in studio, Sindaco, io ho ancora un po' di pelle d'oca o di tacchino come si usa dire da queste parti, quindi come avrete potuto comprendere stiamo parlando della proclamazione della nostra città a Capitale Italiana della Cultura che è avvenuta appunto ieri presso la sede del MIC a Roma. Una sola precisazione, per dovere di cronaca l'Aquila ieri è stato, il progetto dell'Aquila è stato scelto tra dieci progetti finalisti di questo chiamiamolo concorso, adesso troveremo un termine. Le città concorrenti sono state Agnone, Alba, Gaeta, Latina, Lucera, Maratea, Rimini, Treviso e l'Unione dei Comuni valdichiana senese. L'Aquila, il progetto dell'Aquila in realtà è stato scelto, raccomandato come è stato detto dal Ministro San Giuliano, raccomandato dalla giuria giudicante appunto quello della città dell'Aquila. Sindaco, noi ieri abbiamo già scambiato due battute, non siamo più a pochi minuti, sono passate 36 ore, sensazioni del post? Intanto devo dire che c'è stata una straordinaria eco-mediatica e non soltanto perché ho ricevuto centinaia di messaggi da persone di tutti i livelli che non soltanto si complimentavano ma anche che si volevano mettere a disposizione. Devo dire che ha avuto un impatto incredibile anche questa mattina, come tutte le mattine sono arrivato in città, ho fatto una passeggiata, sono andato in ufficio. Anche proprio la cittadinanza ha vissuto questa cosa come un riconoscimento, riconoscimento come un bollino di qualità. Ho letto anche molta felicità fra i cittadini, fra i commercianti perché ho fatto un giro anche per i negozi. C'è grande attesa naturalmente, ci sono grandi aspettative e questo ci riempie ancora di più di responsabilità perché in realtà il riconoscimento di capitale italiana della cultura dal punto di vista economico è vero che porta un contributo di un milione di Euro che è importante, però la città dell'Aquila è messa molto di più sulla cultura, non è determinante il milione di Euro considerato anche gli standard che vengono richiesti. Ma io devo dire che questa città ha fame di obiettivi ambiziosi e quando li raggiunge secondo me è anche in grado di esserne all'altezza. E questo va anche al di là di questa narrazione un po' plumbea della città, bloccata, immobilizzata, i problemi che esistono, che ci sono naturalmente, che però trova questo entusiasmo che non è faciloneria quando si tratta di alzare l'asticella. E quindi devo dire che da un lato è stata una cosa molto emozionante perché l'Aquila ci aveva provato con capitale europea nel 2019, ci ha riprovato con capitale italiana nel 2021, poi è stata traslata al 2022 per il Covid, ci è riuscita finalmente. E devo dire anche un'altra cosa molto positiva è che alcuni sindaci delle città concorrenti mi hanno già scritto per collaborare. E qui tra poco arriveremo anche a questo punto. Io volevo solo aggiungere a Chiosa di questa prima considerazione emotiva del risultato ottenuto dalla città che probabilmente, io ti voglio raccontare il mio, la mia sensazione. Io in quegli ultimi secondi nei quali il Ministro stava, dopo aver sostenuto un intervento di qualche minuto, si avviava al periodo finale per annunciare, ho rivissuto, adesso vi sembrerà forse riduttivo, quasi blasfemo, ma dal punto di vista emotivo le stesse sensazioni del rigore di Fabio Grosso nel 2006. No, quel rallentamento, quelle immagini che piano piano, piano piano, 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 piano arrivano fino alla goal o non goal. E secondo me la città si è orgogliosa, la città è sicuramente, l'ha preso come un riconoscimento, è un bollino, ma secondo me molto c'è anche di una città che aveva anche voglia di rivalsa, perché poi ti rilascio la parola, se no sembra che tu sia l'intervistatore e l'intervistato, perché qui io associo un'altra sensazione, quella che la notte del terremoto, il giorno dopo del terremoto, io provai a Silvi Marina, recandomi in un bar e trovando subito fuori un annuncio che parlava delle organizzazioni che si erano messe in moto per accogliere e per sostenere gli sfollati. Io in quel momento rifiutai il ruolo di sfollato, proprio istintivamente, e scoppia a piangere. C'era voglia di rivalsa, di riessere uguali e normali come gli altri. Questa però è la mia sensazione. Veniamo a quello che stavi dicendo poco fa, cioè i tanti messaggi di congratulazioni, messaggi di sindaci, persone comuni, eccetera. Però non possiamo nasconderci che una qualche puntina di polemica velenosa si è comunque, c'è comunque stata. Io mi sono fatto una rassegna stampa lunghissima tutt'oggi, sono stato tanti al PC a cercare in tutta Italia e devo dire che l'unica cosa che mi dispiace, le uniche note non negative, peraltro mediate, diciamo un po' così ponderate, ma comunque molto velenose, sono partite dal comune di Rimini, che dovrebbe essere un comune molto più aperto allo scambio e alle relazioni, invece lo trovate un po' scomposto. Tu che cosa pensi al riguardo? Penso che intanto è riguardoso per la storia recente dell'Aquila e per quello che abbiamo fatto, ma non per il terremoto, forse anche in parte per il terremoto, che noi abbiamo fatto un dossier che è stato curato da due professionisti dell'economia della cultura, come Alessandro Grociato e Pierluigi Sacco, due professori universitari che applicano il canone della scientificità a un tema che naturalmente spazia liberamente come quello della cultura. Credo che sia ingeneroso perché noi abbiamo accettato di buon grado quando pur candidati e pur finalisti e pur consapevoli di un dossier di grande qualità non abbiamo detto mezza parola sul fatto che fosse stata scelta procida e sarebbe come dire che è il ministro di turno che sceglie chi fa la capitale italiana della cultura e non la giuria fatta di persone autorevolissime perché nel periodo in cui capitale italiana della cultura non è stata assegnata direttamente ma è stata fatta attraverso il bando e in sei edizioni, in sei occasioni era ministro della cultura, Franceschini del Partito Democratico hanno vinto sei città del Partito Democratico. Dobbiamo stare attenti a questa cosa se no facciamo perdere di senso anche alla competizione di capitale italiana della cultura. Se Rimini vuole Rimini poi in realtà non è la città di Rimini e fino in fondo non è manco il sindaco di Rimini perché è stato l'ex sindaco che è un deputato del PD che addirittura ha annunciato un'interrogazione parlamentare quando poi invece l'ex sindaco è stato smentito dall'ex vice sindaco e di fatto gli ha detto fatti gli affari tuoi. Non so se Gnassi, questo è il nome del deputato del PD, abbia letto il dossier dell'Aquila, abbia letto il dossier delle altre nove città e pensare che questo sia una sorta di premio per quello che è avvenuto alle regionali, francamente va oltre il ridicolo. Perché se il governo e se San Giuliano che è un ministro di Fratelli d'Italia avesse voluto dare un riconoscimento a una città amministrata da Fratelli d'Italia ed una spinta all'allora candidato e riconfermato presidente di regione Fratelli d'Italia, probabilmente l'annuncio l'avrebbe dato il 7 o l'8 di marzo e non dopo. O forse avrebbero fatto vincere la candidata della Basilicata, visto che fra poco si vota in Basilicata. Ma poi c'è Latina che è pure amministrata da Fratelli d'Italia, c'è Treviso in cui il sindaco, bravissimo fra l'altro, un amico, è della Lega. Io penso che questo tentativo continuo del Partito Democratico di inquinare il dibattito civile non faccia bene al Paese, nessuno mai si è lamentato. Ascoli era arrivata in finale con Pesaro, Pesaro città, Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro, è una persona che conosco benissimo, aveva fino a quando la Schlein è diventata segretaria del PD il mio stesso ruolo nel PD di responsabile degli enti locali e Ascoli Piceno, il sindaco Marco Fioravanti di Fratelli d'Italia, mai si è sognato di dire, ah ma Franceschini ha scelto il suo amico di partito. Ci vorrebbe un po' di dignità, ma anche di compostezza e dovrebbero anche un po' rilassarsi questi del PD rispetto a queste vicende. Io adesso non voglio entrare nel cuore di questa polemica, insomma, una riflessione forse rispetto agli atteggiamenti. Però, e adesso ti faccio una domanda un po' cattivina, ti chiedo una risposta, insomma, a un... c'è una riflessione però dobbiamo farla. Il misto San Giuliano è venuto qui all'Apila e come era normale che fosse, però forse si è fatto un po' prendere l'entusiasmo e gli è scappata un po' la mano durante il... cioè ha manifestato un trasporto verso la città dell'Apila, vuoi per motivi suoi, vuoi per motivi di appartenenza, vuoi per quello di te, che comunque un pochettino il fianco l'hanno prestato, non trovi? Sì, se San Giuliano fosse stato la persona chiamata a scegliere. In realtà c'è una commissione, c'è una giuria in cui c'è un giornalista autorevolissimo, in cui ci sono persone che fanno parte del mondo accademico, istituzionale, addirittura c'è il rettore della LUIS. Allora dobbiamo pensare che tutto questo parterre di persone che accettano di fare i giurati siano in realtà delle marionette nelle mani del potente politico di turno. Non credo commenga né al ministro né a loro, così come abbiamo avuto sfilate di ministri che si sono succeduti negli anni, c'era Cialente, c'era il governo in cui il PD fra l'altro negli ultimi, dal 2011 al 2022, in cui ci sono state le elezioni ed è stata indicata la Meloni come Presidente del Consiglio, in 11 anni, fatta eccezione per la brevissima parentesi del governo Conte I, il PD ha sempre governato in Italia, quindi vorremmo ricordare sul fronte della cultura il fatto che Franceschini nella sua riforma trasformò la sovrintendenza da permanente a temporanea e noi abbiamo dovuto fare la battaglia con il ministro Bonisoli, Conte I, insomma che ci sono state sempre delle, se qualcuno volesse leggerlo con occhi negativi, sempre delle invasioni di campo, è evidente che San Giuliano, la Meloni, altri ministri, Lollo Brigida, sono ministri che appartengono ad un partito, sarebbe stravagante stravagante il contrario, insomma. Anche se è stato negli ultimi tempi stravagante il modo di arrivare a fare il ministro. Sì, sono d'accordo, però quelli sono ministri politici, è normale che quando vengono su un territorio, perché la Meloni non dovrebbe venire a rivendicare il fatto che quando prima dovevamo elemosinare i trasferimenti per i bilanci, che ce li volevano tagliare costantemente, invece con la Meloni non soltanto sono diventati stabili, ma sono aumentati, perché non lo dovrebbe rivendicare? Mi sembra, dà delle risposte al territorio, siccome chi viene eletto deve dare risposte al territorio, una volta che do risposte cerco anche di rappresentarle e di incassare il consenso. La politica è fatta di consenso. Assolutamente, parlando di politica, adesso passiamo a parlare invece di politica, tu hai citato prima la parola di governato, governo, governare, noi siamo appena usciti dal rinnovo di un governo che è quello regionale. Pochi giorni fa è maturata la conferma del Presidente Marco Marsilio alla guida del governo regionale abruzzese, che di per sé ha costituito un altro evento storico, perché per la prima volta in Abruzzo si è verificato un episodio di questo tipo, per varie ragioni, non sempre per ragioni legate a un cambiamento di vento o di voto, abbiamo avuto un po' di problemi in questa regione, come tutti ricorderemo, gli ultimi vent'anni, però questo è stato. Un commento a freddo, di questo non abbiamo mai parlato, io e te ancora dalle elezioni, non abbiamo avuto modo di confrontarci, mi farebbe piacere che tu dessi la tua lettura di cosa sia accaduto in campagna elettorale e delle ragioni che secondo te hanno portato comunque il popolo abruzzese a esprimersi in maniera massiva rispetto e in favore di Marco Marsilio. Io credo che anche lì la campagna costante di denigrazione di Marco Marsilio, il Presidente Romano, il Presidente Smart Working, il Presidente, la questione grottesca dei tre mari, che continua a permanere, è come se… Una cosa che io considero fastidiosa, al di là delle appartenenze o meno, la denigrazione nei confronti di quello che rappresenti la tua regione è come andare all'estero a parlare male dell'Italia. Sì, oltretutto Marsilio è una persona che ha una cultura, un'accuratezza nei dettagli, quasi patologica. Marsilio se gli chiedi di mettere in ordine alfabetico i 305 comuni abruzzesi dall'alla Z, probabilmente è uno di quelli che si ricorda tutti i sette nani senza saltarne neanche uno, è di una precisione, di una meticolosità magnacale. Quindi pensare di fare una campagna elettorale dicendo che Marsilio è l'extraterrestre e D'Amico è il vicino di casa, Marsilio è quello paracadutato e D'Amico invece è il candidato che viene dal basso, è talmente stridente rispetto alla realtà dei fatti, ma non perché D'Amico sia, Luciano D'Amico è una persona assolutamente, e anzi lo ringrazio per le parole di apprezzamento che ha avuto. Io l'ho trovato una persona assolutamente gradevole. È una persona assolutamente gradevole, sono d'accordo con te, però invece di fare un confronto sui temi, sugli argomenti, c'è stata una isteria collettiva che da un lato ha attaccato a testa bassa l'uomo Marsilio e dall'altro ha caratterizzato un battaggio quasi che c'è stata una reazione avversa. Io penso che sai quando tu dici ci arrivi per contrarietà, Guccini diceva ci arrivi per contrarietà, molte persone a un certo punto prendono quasi simpatia per il soggetto che viene attaccato costantemente fra l'altro senza alcuna colpa. Marsilio io credo che sia una persona presente, l'ho chiamato, è venuto con me quando gli ho chiesto di far parte della delegazione al Capitale Italiano della Cultura, aveva incassato la riconferma, poteva riposarsi, fare le trattative per partire prima delle vacanze, mi ha detto in maniera entusiasta, voglio venire, è tornato all'Aquila. Marsilio ieri era come un bambino, contento di quello che stesse succedendo, una persona che è in grado di dare del tu non soltanto al Presidente del Consiglio, ma a tutti i ministri, ma non per confidenza, per l'autorevolezza e per capacità di confronto, di amicizie coltivate, anche nel centro-sinistra. io lo vedo, mi capita ogni tanto qualche esponente del PD, di azione, dice ah Marsilio come no, ci conosciamo, siamo stati insieme, è una persona che è stata in grado di riportare l'Abruzzo ad un livello che gli mancava da anni. Sindaco, un'altra domanda un po' cattiva, una curiosità che vorrei togliermi, l'Aquila non esce, pur avendo dato come collegio un supporto fondamentale, pur avendo trainato la vittoria di Marco Marsilio, ne esce in maniera, io adesso un termine non molto limpida, non molto, insomma un po' streggiata, questa è la sensazione, la città dell'Aquila mi riferisco, parliamoci chiaro, il problema è Alessandro Piccinini che doveva essere il candidato prescelto per la città, che pur prendendo un botto di voti, perché insomma non è così facile mettere assieme più di 5 mila voti, quindi secondo te cos'è successo? Ma in realtà sull'Aquila città c'è stata una competizione molto alta, come l'altra volta, tanto è vero che l'Aquila ha eletto nel 2019 5 consiglieri regionali, fra eletti in prima battuta e surrogati, perché Pierpaolo Pierrucci rientrò dopo le dimissioni di Giovanni Legnini quando fu chiamato a fare il comissario, la competizione nella città dell'Aquila è sempre stata molto alta, tant'è vero che il centrodestra pur crescendo rispetto al risultato del collegio nominale di Giorgia Meloni nel 2022 e non è stato in grado di rieleggere 5 consiglieri, sono stati confermati Emanuele Imprudente, Roberto Sant'Angelo e Pierpaolo Pierrucci, è venuto meno Americo Di Benedetto, Guido Liris fa il senatore quindi non si è ricandidato e Alessandro Piccinino non è stato eletto, credo che sia anche una dinamica un po' naturale, perché chi corre da consigliere regionale ha un vantaggio, perché comunque gestisce, è in grado di dare risposta ai cittadini, forse come l'Aquila città siamo partiti troppo tardi, perché i candidati sono stati annunciati solamente nel dicembre, quindi sotto Natale, meno di tre mesi di tempo per fare campagne elettorali, dispiace che non ci sia un Aquilano del partito di maggioranza relativa a livello regionale, però sono altrettanto convinto, anche per quello che ha detto il Presidente Marsilio, che non sia più necessario essere Aquilano per fare il bene dell'Aquila, di Avezzano per fare il bene di Avezzano. Sì, questo io sono convinto, ma ti rispondo con una battuta che mi fece un mio amico, tu sai io ho una provenienza di sinistra, inutile che ce lo nascondiamo, penso che lo sappia tutto il mondo, che mi disse, mi confessò di non avere nulla contro le dittature, a una sola condizione che il dittatore fosse lui, questo per dire che sì è vero, però spesso affidarsi alla bonomia si porta a qualche delusione. Però poi la democrazia dice questo, che chi prende un muoto in più governa e chi prende un muoto in meno, l'importante è che Fratelli Italia è un partito serio, strutturato, per cui non è all in, non è 0-1, se vinci stai dentro, se perdi stai fuori, è un partito che ha una sua dinamica, ha le sue logiche interne e quindi anche chi prende un muoto in meno ha voce in capitolo per poter dire delle cose. Devo dire che stiamo arrivando alla conclusione e quindi sei anche molto fortunato, ma questo ormai lo sappiamo, perché la bravura senza un po' di fortuna non è nulla e quindi ci sarà poco tempo per rispondere alla domanda più spinosa, rispetto al comune dell'Aquila, rispetto al rimpasto di Giunta, rispetto a queste regionali che cosa cambiano, se cambiano qualcosa e quale sia il tuo atteggiamento se è cambiato rispetto a prima? No, il mio atteggiamento non è cambiato, non cambia il mio giudizio sui componenti della Giunta, è assolutamente positivo su tutti, non ci sono partiti che soverchiano altri come fu in passato quando ci fu il boom della Lega, per esempio alle elezioni politiche, alle elezioni europee, io credo che i partiti debbano avere una consapevolezza che al di fuori delle dinamiche dei partiti, degli addetti ai lavori, c'è un mondo che guarda, che giudica e che vota, e che premia e punisce, io sono avviato verso il secondo mandato, non dico a metà strada ma quasi e quindi porrei anche interessarmi poco dei destini del centro-destra, ma stiamo attenti perché la storia recente di questa città racconta che il centro-destra quando si è messo a fare battaglia al proprio interno ha lasciato che il centro-sinistra governasse per 10 anni e anzi la prospettiva di governo sarebbe stata molto più ampia se non ci fosse stato un elemento, non parlo del soggetto Pierluigi Biondi, ma non si fossero rovate le ragioni dell'unità, della messa da parte, degli egoismi, delle necessità, delle ambizioni personali e forse dell'attecchire dall'altra parte le dinamiche qui che paventavamo oggi. Sì, se le coalizioni diventano, si sclerotizzano, iniziano a guardarsi l'ombelico e pensano che il mondo inizi e finisca all'interno della cerchia degli addetti ai lavori, che sono un numero ridottissimo, poi hai strane sorprese. Le strane sorprese nel 2017 sono state per il centro-sinistra, per il PD che pensava di asfaltare il centro-destra alle elezioni, non posso far altro che fare un richiamo alla sobrietà e alla ragionevolezza. Il problema di sobrietà, l'ultimissimo flash, mi devi rispondere in tre secondi, io ho letto da qualche parte che tu hai dichiarato, sempre rispetto al problema della Giunta, ammesso che ci sia un problema, rispondendo decideranno i partiti, questo cosa significa? Che se i partiti dovessero decidere il rimpasto tu saresti assolutamente... I partiti decideranno nella fase istruttoria, poi siccome la faccia ce la metto io e io sono chiamato tutti i giorni a ragionare con gli assessori, i consiglieri comunali vengono eletti, gli assessori vengono nominati, tant'è vero che hanno le deleghe, perché il Sindaco rinuncia a una parte delle sue competenze per delegare, non sono abituato a sopravvivere e a galleggiare. Sindaco, io ti ringrazio, siamo proprio in chiusura, ringrazio te, saluto a voi i video lettori del Capologo e vi rimando a un prossimo appuntamento con Grandangolo.